Eccoci tornai su Ark, allora per quanto riguarda oggi vorrei andare a recuperare un artefatto, visto che sarebbe quasi l'ora da cominciare a prendere almeno uno, e a parte quello vorrei craftare nel bancone la spada da legno. E ora vi starete chiedendo perché vuoi fare la spada da legno? Sostanzialmente ho visto sulla wiki che se colpiamo dei dodo con la spada da legno in teoria ci dovrebbero dare tipo le coordinate di dove si trova il boss dodo, qualcosa del genere. Quindi come prima cosa direi ce ne andiamo giù, allora ci spawniamo il basilisco, forse è meglio il teragoleo, facciamo che spawniamo un attimo lui, che ce l'abbiamo già qua davanti, un po' più comodo. Allora come prima cosa, ci andiamo nella cave, e poi proviamo a spawnare questo boss dodo. Allora se non ricordo mai la cave è tipo sulla costa, da ste parti. Allora, forse proprio là davanti sapete? Allora un attimino, togliamo tutto del mezzo così magari a un certo punto respawno anche qualcosa no? Allora c'è qualcosa di interessante, non mi sembra. Allora, la cave, la cave, i dodo vorrei evitare di killarli però. Non ho capito come ha fatto a mangiarsi quello però vabbè. Forse è più avanti. Sta cavolo due piantine in mezzo al nulla. Eccola qui. Coordinate 27,2 e 78,5. Allora. Cavolo fa caldo. Sì, no, che non abbiamo nemmeno l'equip addosso che altrimenti... Livello 400, cavolo. Potevamo anche evitare di killarlo forse, però... E non rischiamo. Allora. Allora. Con calma, gira un attimino. Eh, la cassetta però la vorrei. Ma guarda. Ma doppietta, meglio di nulla. Vediamo se funziona il rampino. Fantastico. Già, è una cosa positiva. Ah, verità. Oh, cavolo. Allora. Facciamo così. No, scusa. Ma sono sbagliato. Non volevo. Allora. Tiracoleo. Ti mettiamo qui. Cavolo. Boss cave. Ma su tutto boss cave, scave. Cioè, follia. Finalmente. Finalmente. Eh, a un momento arrivavamo su the island. Non so se rendo l'idea. In teoria con lui, spero sia fattibile. Cioè, abbiamo comunque il tempo limitato. Perché comunque abbiamo 44 pozioni della vita. Qui si perde abbastanza vita, la verità. Nonostante abbiamo un bel po' di tempo. Cavolo, 70 gradi qua dentro. Forno. Allora, cerchiamo di capire la strada di qua. Oh, calma. È che qua se vengono la lava può andare a finire abbastanza male. Guarda, è tutto bellissimo. Ma io dove dovrei andare, tipo? Eh, pessimo, pessimo idea. Sì, ma ci sono pure le trappole. Cioè, non vi sembra un po' esagerato? Non ci passo nemmeno. Non credo se andava da qua, però... Non mi chiedete cose. Io non... In qualche modo ci siamo arrivati. Fettiamola così. Qua c'è stato un sacco di schifezza. Con calma, per favore. Sono anche alti di livello, la verità. L'importante è che non ci sono gli Omnispider. Che quelli lì... Livello 1120. Sì, ma... Ho tutta la buona volontà di questo universo. Ma uno a piedi di questo, come cavolo, lo doveva killà. Vabbè. Cerchiamo di farla svelta. In qualche modo è andato. Che livello è questo? 1080. Cioè... Fortuna che tra il danno da sanguinamento e il morso... Cioè, scusate. Il danno del morso e il danno da bruciatura, comunque... Toglie una percentuale di vita abbastanza incredibile. Mi piacerebbe capire se continua sta che voca. Omniaranio. Allora, in qualche modo è andato. Questo è assurdo. Omniaranio. 1040, cioè... Veramente, cioè, follia. Cavolo, l'acqua. Allora. Altefatso recuperato. Ah, qui è finito. Ehm... Ok. Grazie. Beh, diciamo che in qualche modo è andata. 760, cavolo. Eh, questo qui... Una rottura da scatola. Per favore. Queste sono cattivissime, tipo. Ma comunque guardate la vita come scende. Per fortuna. Allora. Con molta, molta calma ora. Mi piacerebbe anche il ritorno indietro. Ho detto con calma. Che cavolo di salti fai? Aiuto. Allora, di qua. Di qua. Oh, cavolo. Spero che stiamo uscendo. Ma non è che mi fido più di tanto. C'è una cassetta là sotto. Milodonte blueprint. Cavolo. Quello un pochettino mi interessa, però. 128 d'armatura. Non è per niente male, la verità. Allora. Dobbiamo andare di qua. Bello, 400. Pure questo, cavolo. No, comunque a piedi non credo sia minimamente fattibile. Quanti cavolo c'è? No, non vuoi sapere niente. Via, via. Arrivederci, grazie. È stato un piacere. Almeno abbiamo recuperato un artefatto. Che già. Ne è per niente male come cosa. E ora di raid. Proviamo un attimino. Che cavolo è stato? E dai, su. Lasciateci in pace. Tolliti dalle scatole. Che cavolo di armatura c'hai? Ah, voglio pure io. Allora. Pichiamo tutto quello che ci interessa. Nel frattempo la piantina ci rompe le scatole. Mi piacerebbe capire dove è però. È tipo dentro le texture. Ma che cavolo. Vabbè. No comment. Sorvoliamo. Allora. Qui che è più tranquillo. Essenze. A questo punto. Piamo anche i pezzi d'armatura loro. Allora. È uno. È due. È tre. È quattro. Poi. Questo qui. Torna nel Cryopod. Dopo anche la. Soul. Soul Gun. Ora che mi ricordo. Sapete che è natro. Eccola qui. Dopo quando torniamo in base. Spero di ricordarmela. Così. Così ce la facciamo. E a parte questo. Ci serve la spada sulla barra. Che dobbiamo colpire i dodo. Ci esponiamo il basilisco. Tu per favore. Dovete dalle scatole. Grazie. E praticamente. Dovremmo colpire i dodo. Con la spada da legno. Anche se sinceramente. Non mi sembra. Succeda niente. Che cavolo da versi. Forse siamo troppo lontani. Da dove. Da dove. Il dodo. Boss tipo. Non so se dobbiamo killarli. Oppure dobbiamo semplicemente colpirli. Infatti lo dice. Che ha effetto sui dodo. Proviamo ad allontanarci. E colpire altri dodo. Dovrebbe succedere qualcosa. A un certo punto. Pensavo che mi attaccavi. Ah verità. Allora. Da come c'era scritto sulla wiki. Praticamente. Colpendoli a un certo punto. Dovevano succedere cose strane. Ora a meno che. Questi qui non sono troppo lontani. E quindi. Cavolo. Per favore. Lasciateci in pace. Intanto distruggiamo villaggi. Distruggiamo villaggi di NPC come niente fosse. Infatti mi sa che sta mod. A breve. Tocca tocca toglierla. Che a parte rompe le scatole. Diciamo che non so più un problema. Allora. Dicevamo. Dodo. Dodo. Tipo questo qui. Tu funzioni. Direi da no. Allontaniamoci un altro po'. Allontaniamoci un altro po'. A meno che non è proprio spawnato. Lo spino. Ah è normale. Vabbè. In realtà possiamo andare pure così. Anche se tocca a fare attenzione all'ossigeno. Allora. Altri dodo. Altri dodo. Carno. Lascia stare i poveri Dino. Quello lì. Livello 100. Ma che cavolo. Questo qui si può anche togliere. Livello 100 è bassino. Almeno così magari respona. O almeno. Quella è la speranza. Tra l'altro mi sono dimenticato anche di fare i barili. Toccherebbe farli la verità. Così addomestichiamo anche l'elefantino. Questo qua è livello basso. Si può togliere. Allora. Qui ci sono altri dodo. Speriamo che almeno uno di questi funzioni. Va capì. Nemmeno questo. A meno che non è proprio spawnato. Sto boss dodo. Quindi anche col pendoli non succede effettivamente niente. Mi piacerebbe pure provare ad affrontare un golem. Ma non penso che con il basilisco ce la facciamo la verità. Bravo l'altro NPC. Allora. Lì c'è il golem. Meglio di no. Tipo da queste parti direi che ci siamo allontanati notevolmente. Ora se solo riuscissi a trovare un dodino. Quello lì. Ah banguela. Ok. Cercasi dodo. Torvosauro. Quello pure è interessante la verità. Quasi quasi. Buonasera. Scusa. Ma che cavolo di scossa elettrica è partita. Dai sta fermo un attimo. Ragazzi sono scossa elettrica incredibile tipo. Io spero che ce la facciamo con le frecce. Ma non so che sono un pochettino poche. Che cavolo ti urli. Sta calmo. No. Non ti mangiare il torvo coso. E qua. Ecco. Cavolo. Speriamo che non ci attacca e comincia a scappare. Se si addormenta ancora meglio. Dai ha fatto un sonnellino. Ma sai che è andato giù? Oranosauro. Pazzivo. Va a capire. Era abbastanza strano. Ma sta scossa elettrica però sono assurdo. Cioè scusatemi. Che cavolo. Allora. Il torvo aggeggio l'abbiamo addomesticato. Quanti livelli in danno? 32. La verità. Non male. Ma che cavolo è che da ste scosse cavolo. Ma ragazzi sono scosse elettriche incredibili. Ma non riesco a capire che cavolo è. Ma? Vabbè. Va a capire. Qualcosa da quella direzione comunque. Qua ci sono un paio di spino. Draghetta spinosa. Che tra l'altro abbiamo veramente poco danno. Allora diamo un'occhiata qua sotto. Se magari funziona. La spada su qualche dodo. Buonasera. Eh no. Non succede veramente nulla. Ma a capire. Cioè da come c'era scritto sulla wiki. Praticamente dovevamo semplicemente. Attaccare dodo. E dovevano tipo cominciare a fluttuare in aria. Se il boss dodo era vicino insomma. Però non sembra succeda niente. Cristalli elettrici. Meglio da niente. Ma a capire a sto punto. Vorrei quasi provare il torbosaura. A verità. Magari anche con un elemento. Allora. Facciamo che ci pigliamo tutte le cose che ci interessano. Anche le frecce. A verità. Così avrete da graftarle. La pelle. Le essenze. Le essenze. Eccole qui. Cristalli. Niente. Guardate aggiungo un altro po' di vita. Che non si sa mai. Questi qui non so se ci servono. Meglio conservarli. Precce. Precce. Facciamo che le pigliamo. E nulla. A parte questo. Direi che ce ne torniamo. Un attimino in base. Isola volante. Stavo cercando di sbloccare la sella. Ma non ho fatto in tempo. Allora. Torvosauro. Torvosauro. Eccole qui. Allora. Anche se devo dire il tiracoleo. Se non era per lui. Niente artefatto oggi. Allora. Vediamo un po'. Torvosauro. Torvosauro. Dal nostro inventario. Scommetto che manca la pelle. No. Scusate. La fibra. È ovvio. Spontato proprio. Toccherbbe via un moscopes. E lasciarlo tipo in passeggiata da queste parti. O al limite un megaterio. O un orso. Che se non sbaglia anche il megaterio. Dovrebbe fare la fibra. Non so perché. Ma non ne so proprio sicuro. Teresini e orso sicuro. Il megaterio non lo so. Perché penso che possa fare la fibra. Probabilmente mi confondo però. Non lo so. A parte quello. Facciamoci un secondo in la sella. Prima che mi perdo. Torvosauro. Ecco di qui. La soul. Aggeggia. Ecco di qui. Almeno così. Non me dimentico. Allora. Vorrei fare anche il piedistallo. Per trofei. Così almeno. Quelli che abbiamo. Vediamo. Allora. Da qui. Piedistallo. Piedistallo. Almeno così ce lo lasciamo. Allora. E direi che ce lo piazziamo davanti casa. Tipo. Non lo so. Tipo qui. Anche se il coccodrillo va spostato. E almeno uno. Diciamo. Che si è recuperato. In qualche modo. E sottolineo in qualche modo. Che a un certo punto dovevamo passare attraverso una trappola. Ma abbiamo fatto tipo il giro col tiracoleo. Su successe cose. Vabbè. Se lo vogliamo. Più di strelli con 10.000 di vita. Che mamma mia. È esagerato. Allora. Cavolo. 101 blu. 101 d'armatura. La sella blu. È pazzesco tipo. Cioè cavolo. Ecco da te. La sella. Peccato che non c'ho pozione dell'exp. Possiamo evocare un gerboa? Sì. Grande. Un altro? Eh sarebbe stato troppo bello. Vabbè. Accontentiamoci. Ci lasciamo l'essenza qua dentro. E per quanto riguarda il gerboa. Facciamo una cosa rapida rapida. Quindi ci portiamo. Il torvosauro nella vallina. E ci portiamo il tiracoleo. In teoria anche questo qui dovrebbe fare abbastanza danno. Dice che soltanto i dino della grandezza del T-Rex non dovrebbero far danno. Quindi questo in teoria dovrebbe andare bene. Allora. Andiamo giù che è meglio. Non si sa mai. Tipo anche qua davanti. Direi che può andare bene. Allora. La duetta del gerboa. Ci sponiamo il ragnetto. Tocca aspettare un minuto. Quasi quasi però dal cibo anche a questo qui. Andata. Ah vabbè. È livello 20. La voglio provare a lasciarlo. Dove abbiamo messo gli altri gerboa. In modo che. In teoria. Ci dovrebbe fare le essenze luminescenti. Cioè praticamente le essenze le converti in essenze luminescenti. Se c'è un dino luminoso all'interno del tavolo. Allora. Vediamo un attimo. Quanto manca? 20 secondi. Ti lascio giusto una pozione. Cerca di sopravvivere. Per favore. Allora. Un attimino. Tutto tranquillo. Sì. Inge sono nemmeno. E ne pc che rompono le scatole qua attorno. Quindi ci va a delus. Attaccalo. E gli fa danno. Cavolo. Ecco. Grazie mille. Che mi avete scritto nei commenti. Di farmi sta cavolo di pistola. Perché altrimenti. Probabilmente. Cavolo che botta da lag. Da audio. Probabilmente. Il nostro povero scarafaggio. Ci faceva una fine veramente brutta. Cioè. Gli faceva 22. Estronissimo. Ah. Smetti di curarti. Tra l'altro questo qui 145 cavolo. Dai. Qui giù. Per favore. Tra l'altro. Mi sa che abbiamo tipo il danno aumentato. Contro di questo qui. Perché anche se è 145. Sta andando giù. Abbastanza velocemente. La verità. Per favore. Dacci le pozioni. Però. Dai. Si gentile. Dai. Non ci credo. Veramente nemmeno una pozione. Cioè. Vi ricordate che l'altra volta ce l'ha dato delle pozioni. Ma sto giro. Boh. Va a capire. Allora. Ah. Pensavo che c'era tipo 374.000 de vita. Col cavolo. Cioè. Tipo. Niente de vita. Vabbè. Allora. Ci esponiamo. C'è un megalosauro. Ma avete letto proprio che c'era scritto megalosauro. Sono impazzito. No. Megalosauro. Eh va a capire. Vabbè. Probabilmente hanno utilizzato il modello del megalosauro. E quindi è andata così. Che cavolo ci ha dato. Nature ball. Usa this as rocket launcher ammo. What. Ok. Praticamente. Perché raftate il lancio a missili. Probabilmente da sta mod. E spara le foglie. Ok. Vabbè. Facciamo finta che abbia un senso. E andiamo avanti. Cavolo 130. Un pochettino mi ispiri la verità. Però sfortunatamente per te. Non è giornata. 39. Da 39. 598. Devo dire. Abbastanza incredibile. What. 199. Ma praticamente. Quelli natura. Contro quelli aria. Fanno un casino da danno. Tasto destro. Fai qualcosa. No. Urli. Quello si è praticamente autochillato. Con la C. Niente. Con la X. Niente. Alt. Niente. CTRL. Nemmeno. E c'è praticamente. No. Mi è scappato il cosino. Scusa. Non lo faccio più. Praticamente c'è soltanto il tasto sinistro come attacco. Ma diciamo che se lo utilizzate contro elementi aria. Fa un bel po' di danno. Ma in realtà anche contro quelli d'acqua fa danno. La verità. Delta di Romeus. Ma è a livello basso. Più che altro. Se trovo qualcosa che ci abbia abbastanza vita. Vorrei far vedere anche una cosa. Praticamente. Ogni volta che colpisce. Mette tipo una stack di veleno. C'è assurdo. Solo che 5.500 da vita è un pochettino poco. Facciamo che almeno 10.000 da vita. Se no veramente. Cioè. Questa si è autogillata. No way. Ok. Um. Elefantosauro. Niente da troppo incredibile. Ormai questo si mangia tutto tipo. Ecco tipo contro questo bronto. E niente a livello basso. Come non detto. Qualcosa di livello alto tipo. Ecco contro il Diplom. 4 morsi. 4 stack. 5. 6. 7. 8. 9. E su infinite tipo le stack. Non c'hanno un limite. Cioè guardate come perde vita. Non ne perde tantissimo. Sono d'accordo. Però con tante stack. E comunque dando in più. Particolare come cosa. C'è sta. Mi piacerebbe trovarne anche un altro di livello alto. Per farle brida verità. Anche perché non è grande come un T-Rex. Ma è comunque. Non piccolissima come creatura. E il danno comunque lo fa. Cioè nel senso. Considerando la stazza. Considerando il danno. E' pure comodo quando andai in giro. Sti cavolo di NPC sono sempre una rottura di scatole però. Calma. Per favore. Dai su. Lo toglie anche sta cavolo di piantino. Qua ci attacca tutto. Quanto casino fa sta cosa. Dai su. No. Ecco a parte rompe le scatole. Sta fermi così ora. Per due minuti. Diciamo che. Questa mod è abbastanza una rottura di scatole. Allora. In teoria. Ci svegliamo. Grazie mille. Ole. Probabilmente. No poverino si è addormentato. No. Povera stellina. Aspetta un attimo. Um. Steam bug. Solo quattro. Eh. Vedi se ti abbassano. Se no guarda. Può tornare anche qua dentro. Poverino. Allora. Troppo peso. Togliamo. I cristalli. Ci rivigliamo. Questi qui pure si pigliano. Un po' da pelle. E tutto il resto direi. Sopo anche lasciamo. Ci abbiamo livelli da mettere. Solo uno. Lì c'è un altro villaggio. Vorrei lasciarlo in pace però. Ma sto scorpione. Non lo so. Era strano. Là sotto c'è. Mamma mia. Una quantità di tonni ancora. Che è pazzesca. Eh ma sa che c'è una specie di overspawn. Quasi quasi. Cioè abbiamo il basilisco dietro? No. E allora niente. Tocca lasciarlo in pace. Ci avevamo il basilisco. Lo potevamo anche fare. Guardate quanti cavolo sono. Tra l'altro lo spino da un casino d'expo. Quindi è quasi quasi. Aspettate un attimo. Vieni qui. Ole. E infatti quattro livelli con lo spino. Solo che qui sono veramente tanti. Cioè guardate quanti cavolo. E gli facciamo neanche quasi nulla. Loro invece ci mettono tipo. Il sanguinamento. Qualcosa del genere. Ah danno carne di pesce. C'è chi dino. Guardate quanti. Ma che sto vedendo. È tipo stranissimo. Cioè. Allora. Io li lascerei in pace. Anche perché fanno pose. Comunque se dovete livellare Dino. Gli spi non so per niente male. E pure questi. Però un bel po' d'expo ce l'hanno dato. La verità. Allora. Vediamo un attimino. Quasi quasi. Ci conviene tornare direttamente col teleport. Essenza luminescente dell'aria. Mi piacerebbe capire chi ce l'ha droppato. Però. Non ne ho veramente idea. Teleport. Ecco da qui. Isola volante. E nulla. Diciamo che. Tutto sommato. Non è andata male. Abbiamo addomesticato. Un torvosauro. Al 140. Che tra l'altro. È anche abbastanza comodo. Andarci in giro. Nel senso. Non è ingombrante. È abbastanza veloce. Il danno non è male. Quindi. Ottimo così. E a parte quello. Abbiamo anche recuperato. Il primo artefatto. Che diciamo. Dopo quasi 20 episodi. Un artefatto. Era anche il caso. Do pigliarlo. A un certo punto. Quindi nulla. Direi che per oggi è tutto. Spero che comunque. Questo video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando. Iscrivetevi. Lasciate un commento. Mi piace. E ci vediamo. Nel prossimo episodio. Ciao ciao.